Acqua e sapone da urlo. La squadra di Perez espugna il neutro di Scafati. Napoli battuto per 4-2. Vittoria fondamentale. Prova di grandissima intensità. Nella serie Nerazzurri in vantaggio 2-1. Domani di nuovo al Palamangano. Le 12.30, ora di pranzo. Diretta Sky per chiudere i conti e centrare la finalissima Scudetto. In avvio Napoli avanti con Jesulito. L'acqua e sapone non si disunisce. Pareggia con Calderogli e ribalta la situazione grazie al gol di Avellino. Tris di De Oliveira. Nel finale di frazione i partenopei accorciano con De Luca. Nella ripresa protagonista il portiere del Napoli, Molitierno. Bravissimo due volte su Cuzzolino. Una su Jonas, Luca Ianne e Lima. A tre minuti dal termine portiere di movimento. Ma a 72 secondi dall'epilogo. Contropiede, acqua e sapone mortifero finalizzato da Lima. Finisce 4-2 per i Nerazzurri. Grande prova di forza, carattere e soprattutto intensità. Partita eccellente. Di fatto, Mammarella è inoperoso nella ripresa. Certo, si sarebbe potuta chiudere prima, ma il portiere del Napoli, Molitierno, è stato super in tre se non quattro circostanze. E la risposta che Perez si aspettava dopo l'inopinato KO interno di lunedì scorso in gara 2. E domani, alle 12.30, gara 4, sempre al Palamangano di Scafati, Murilo e compagni, ad un passo dalla finalissima, già centrata dal Pesaro di Fulvio Colini. Tre vittorie su tre col Rieti.